Di greco dei, oggi lo scientifico ferro di Alcamo in festa, un evento improntato sull'importanza del green, del rispetto della natura. Essere gentili non vuol dire solamente ben porsi con gli altri, ma anche e soprattutto con l'ambiente che ci circonda e ci accoglie. Abbiamo realizzato un corposo servizio con relative interviste che manderemo in onda in diversi steppe. Oggi primo steppe con le parole del preside Allegro e tre studenti, nonché protagonisti dei progetti esclusivi che vedrete. Rientrano quest'oggi nelle nostre interviste Erika Giannicolo della Terza Dì, insieme a Marta Cascio, ma anche Antonio Ranieri. Per voi. Questa panchina vuole avere il significato non solo di portare sempre rispetto agli altri, di essere gentili con gli altri, ma soprattutto con l'ambiente. Perché appunto il tema di questo pigreco è proprio l'ambiente, quindi un pigreco dei green. Proprio come rappresenta questa frase, vogliamo dire di provare ad essere rispettosi e quindi gentili con l'ambiente, reintegrarci con l'ambiente che ci circonda. Di queste panchine ce ne dovrebbero essere tantissime in ogni angolo. Infatti noi ne abbiamo realizzate due, oltre a realizzare anche delle mollette che quindi portano sempre delle frasi gentili con loro. L'occasione per riflettere attraverso la scienza, la matematica, il fascino dei numeri su valori fondamentali a quello che costituisce veramente il fondo di umanità. Abbiamo prima ricoperte di cementite affinché il colore ovviamente aderisse meglio al legno e poi abbiamo fatto varie passate di viola, quante ne bastavano. E poi abbiamo scritto appunto con i pennarelli un'iposca delle scritte riguardanti la gentilezza. Anch'io sono qui in questo momento per osservare, per guardare, per sentire e per imparare molto da loro. I bambini faranno un quiz e ogni volta che loro indovineranno e faranno questo quiz in maniera corretta, pianteranno dei semini che poi si potranno portare in classe appunto. Tramite un codice, un QR code, spunteranno un paio di domande, dieci domande che appunto parlano di cultura generale. Con questo albero vogliamo tirare su di morale i ragazzi che comunque hanno l'umore un po' giù. Già è venuta una prima classe, abbiamo fatto scegliere appunto una frase che li rappresenti e che appunto li faccia felici insomma. E l'abbiamo scritta sullo specchio appunto con un pennarello apposito. Verrà appunto lasciato un pennarello apposito ogni giorno e così che appunto i pensieri di qualche ragazzo possano tirare su quelli di un altro che è meno felice quel giorno. Ci insegnano tanto ecco.